Salve, sono il dottor Fabio Castiglione, sono un andrologo e un urologo e ho un dottorato di ricerca in peronidisis e cellule staminali. Mi occupo di medicina regenerativa per la disfunzione elettile per la malattia di leperonie e oggi vi spiegherò il mio personale protocollo per il trattamento della malattia di leperonie senza chirurgia. Iniziamo innanzitutto a capire cos'è la malattia di leperonie. È un disturbo della cicatrizzazione, infatti è caratterizzata dalla formazione di una placca di una cicatrice a livello di uno dei involucri del pene chiamato tunica albuginia. Questa cicatrice può produrre una curvatura del pene in elezione e anche disfunzione erettile. Pensate di avere una cicatrice a livello della mano. Ecco, quello è quello che accade a livello della malattia di leperonie, cioè la cicatrice nella mano farà sì che voi abbiate difficoltà nel piegare la mano o a estenderla, perché il tessuto cicatrizziale si opporrà a questa estensione. La stessa cosa avviene per la malattia di leperonie, la cicatrice a livello della tunica albuginia farà sì che l'estensione del pene venga limitata, creando una curvatura. Il termine fibrosi peniena è un termine ad ombrello che racchiude diverse cose. Infatti, se la fibrosi colpisce i corpi cavernosi del pene, produrrà una condizione chiamata disfunzione erettile perché impedirà l'estensione del pene o comunque la sua erezione. Se invece questa colpisce, come ho detto prima, la tunica albuginia, quindi uno degli involucri dei corpi cavernosi, provocherà una curvatura del pene. Se invece questa fibrosi colpirà l'uretra, provocherà una condizione detta urethral structure of stenosi uretrale. Ovviamente ricordate che in ogni caso di peroni disease c'è sempre un coinvolgimento dei tessuti cavernosi e quindi i pazienti affetti da questa malattia potranno avere anche un certo grado di disfunzione erettile. Quindi possiamo dire che la malattia di leperoni è caratterizzata da due cose. Una è una curvatura del pene, quindi il pene sarà curvo. L'entità della curvatura farà sì che ci sia un'indicazione medica o chirurgica. L'altra, che invece può esserci o non esserci, è un certo grado di disfunzione erettile, cioè il pene farà fatica ad avere un'elezione solida e turgida come quella che si aveva prima di che la condizione si sviluppasse. Cosa dicono le linee guida europee per il trattamento non chirurgico della malattia di leperoni? Il gruppo di esperti del comitato scientifico non supporta più l'uso dei vecchi farmaci che di solito utilizzavamo per questo tipo di malattia, come per esempio la vitamina E, o il potaba, o il tamoxifene, o iniezioni intracavernose inibitori del calcio. Questo perché dopo aver valutato le evidenze scientifiche si è capito che questi farmaci non hanno nessuna efficacia sulla malattia di leperoni. Cosa invece suggeriscono adesso le linee guida? Sicuramente l'uso dei fosfidi e serasi tipo 5, quindi come il Viagra, il Chalice, il Tadalafi, terapia con onde d'urto, che è una nuova tecnologia che adesso adoperiamo per la cura della disfunzione erettile e non solo, e device per la trazione del pene. Vi spiegherò più avanti. Per tutti questi trattamenti ci sono abbastanze evidenze scientifiche che dimostrino l'efficacia nella malattia di leperoni. Adesso vi spiego in dettaglio il protocollo che adopero per il trattamento non chirurgico della malattia di leperoni. È un approccio multiplo che prevede tre componenti principali. La prima è la riduzione della fibrosi attraverso l'attivazione dell'ossido nitrico. La seconda è quella di rendere la placca fibrotica più morbida attraverso l'uso delle shockwave onde d'urto. La terza è il rimodellamento della cicatrice con la pompa peniena. Come vedete utilizzo tutti i trattamenti che sono approvati dalle linee guide europee. Innanzitutto iniziamo a parlare di ossido nitrico. Cos'è l'ossido nitrico? L'ossido nitrico è un gas ed è un neurotrasmettitore e ha delle importantissime funzioni per la nostra salute e per il nostro corpo. La sua principale funzione è la vasodilatazione. La vasodilatazione è un meccanismo attraverso la quale i vasi si dilatano e permettono un afflusso di sangue più alto nei tessuti e negli organi. L'ossido nitrico è l'artefice di questa vasodilatazione. Ma sicuramente ha altre funzioni molto importanti nel nostro organismo. Prima fra tutte la modulazione spesso di cicatrizzazione. Infatti l'ossido nitrico permette una riduzione della sintesi di collagene e quindi di fibrosi. Ha un ruolo fondamentale nell'apoptosi, la morte cellulare programmata, e dell'angiogenesi, quindi la creazione di nuovi vasi. E ha un ruolo fondamentale nella risposta contro i batteri. Ma sicuramente uno degli effetti più importanti per la malattia di Leperoni è il suo effetto antifibrotico. Ed è importantissimo ricordare come viene prodotto l'ossido nitrico. L'ossido nitrico viene prodotto da un amminoacido chiamato L-erginina attraverso le neosintasi. L-erginina a sua volta viene prodotto da un altro amminoacido molto stabile che è chiamato L-citrullina. E voi che ricordaste l'L-citrullina, perché è uno delle componenti del mio protocollo. Bisogna ricordare inoltre che l'ossido nitrico è alla base dell'erezione, quello che fa sì che le cellule muscolare lisce del pene presenti nel corpo cavernoso si rilassino, provocando così un'erezione. L'ossido nitrico attiva un enzima che porta alla produzione di un trasmettitore chiamato CGMP. Cosa fa il Viagra? In realtà il Viagra blocca la degradazione di questo trasmettitore amplificando l'effetto dell'ossido nitrico. Nel mio protocollo faccio due cose per aumentare l'effetto dell'ossido nitrico. La prima è aumentare la sua produzione, quindi il numero di particelle di ossido nitrico. L'altra cosa che faccio è aumentare il suo effetto o espandere il suo effetto, quindi inibire in certo senso la degradazione del suo segnale. Come riduco la fibrosi nel mio protocollo? Beh, lo faccio utilizzando un farmaco, che è un PD5 inhibitor, quindi una molecola simile al Viagra, e l'altro utilizzando dei integratori naturali di L-citrullina, che è un amminoacido che assimiliamo con l'alimentazione ogni giorno, ma che nel mio protocollo viene assunto in quantità più elevata. Parliamo adesso di onde d'urto. E perché utilizziamo le onde d'urto nel mio protocollo? Beh, l'unico motivo è per rendere la placca più morbida. Perché? Perché le onde d'urto rompe il tessuto cicatriziale rendendolo più morbido, quindi ha un effetto meccanico. Ma non solo, perché le onde d'urto hanno anche un effetto molto importante sulla rivascolarizzazione dell'aria in cui vanno ad agire, quindi aumentano i vasi sanguigni. Questo porta ad avere erezioni migliori, sicuramente, superiori, ma apporta anche una corretta cicatrizzazione della placca. Cioè, riporta la placca a uno stato infiammatorio più duttile, più malleabile di quello che crea la curvatura. Quindi, nel mio protocollo sono due aspetti principali che abbiamo già esplorato. Una è la riduzione della fibrosi tramite il potenziamento del signaling dell'ossido nitrico e l'altra è sicuramente rendere la placca più morbida con l'uso delle onde d'urto. Parliamo dell'ultimo step, ma anche quello più importante del mio protocollo. Abbiamo già reso la placca meno fibrotica attraverso l'attivazione dell'ossido nitrico. Abbiamo anche reso la placca più duttile, più morbida, grazie all'uso delle shockwave. Adesso dobbiamo modellare la placca, cioè dobbiamo distenderla in modo tale che il pene possa distendersi completamente. Come facciamo a eseguire questo rimodellamento della placca fibrotica? Beh, utilizziamo dei device e uno di questi, quello che utilizzo nel mio protocollo, si chiama pompa peniena. Cos'è la pompa peniena? La pompa peniena è un vacuum device, cioè crea un sottovuoto che permette al sangue di entrare dentro il pene e stimolare un'erezione. La cosa più importante, come potete vedere dalle immagini, è che il pene non può piegarsi all'interno di questo cilindro, o si può solo piegare parzialmente. Nel mio protocollo utilizzo cilindri a diverso diametro. Questo fa sì che riesco piano piano a rimodellare il pene, partendo dai cilindri più grandi per poi arrivare ai cilindri più piccoli, fino ad avere un pene quasi completamente tritto. Ovviamente il mio protocollo è eseguibile solo in base alla curvatura di partenza. Una curvatura di 90 gradi di solito richiede una chirurgia. Spero che questo video vi sia piaciuto. Contattatemi per maggiori informazioni o per prenotare una visita online. Tutti i miei contatti sono nella descrizione del video. Stay safe e al prossimo video!